Ciao bellissimi e benvenuti in un nuovo episodio di cinema! Cos'è questa cosa che ho appena fatto? Questo giro non ho molte introduzioni da fare, non mi è successo veramente niente di interessante questa settimana se non una cosina che vi dirò alla fine del video e quindi armiamoci subito del Magic Weather No Boar, gli Industrial Equipments e vediamo insieme cosa ho visto questa settimana Per potervi parlare degnamente del primo film che ho visto questa settimana dovrò armarmi di un mio fedele compagno che suona veramente strano ma ora capirete di cosa sto parlando Lui è gelsomino ed è il cappello più bello del mondo perché ha le ali e il becco e le palle che posso usare per colpire la gente che mi dà fastidio Ogni cosa che sto dicendo finora mi sta mettendo in imbarazzo con me stessa quindi credo che il resto del video sarà muto Il primo film che ho visto questa settimana è stato Pinguini di Madagascar che mi aspettavo sarebbe stata una pataccata ed effettivamente è una pataccata ma stranamente è il film che mi è piaciuto di più di tutta la saga di Madagascar mi sembra molto carino il modo in cui hanno sfruttato il tormentone carini e cucolosi e quindi assolutamente consigliato per quattro risate e in caso vogliate dimostrare a qualcuno che Benedict Cumberbatch sa fare altre cose oltre ad essere figo infinita dolcezza e assoluto gaudio per gli occhi ho visto Moon, il guardiano della luna che è un film d'animazione francese già dal trailer avevo capito che sarebbe stata un'esperienza visiva bellissima perché ha uno stile molto molto particolare prendete le creature della principessa Mononoke dello studio Ghibli e mescolateli allo stile di quei giochi indie particolari non quelli in 8 bit naturalmente e avrete Moon che è già solo bellissimo da vedere ma anche la storia è veramente molto molto bella addio Gessomino ed è così che mi vettino tutte le mattine questa settimana mi sono fatta una mini maratona di Monty Python ho cominciato con Time Bandits che tecnicamente non è un film di Monty Python ma è di uno dei Monty Python è diretto da Terry Gilliam e c'è John Cleese che interpreta Robin Hood è assolutamente adorabile è quel tipo di film stile Labyrinth, Willow, quei fantasy molto carini io dico sempre che le cose sono molto carine sono my little party è la storia di questo bambino che una notte si ritrova dei nani nell'armadio il sogno di questo gruppo di nani è diventare i più grandi banditi della storia e quindi trascinano questo bambino attraverso varie epoche a fare tra virgolette scorribande ah tra l'altro c'è anche Ian Holm in questo film il Bilbo vecchio per intenderci se non avete mai visto Labyrinth fatelo perché David Bowie e Willow è stata la mia infanzia è uno dei motivi per cui amo i fantasy quindi non posso che consigliare pure Willow dopo Time Bandits ho visto Life of Brian che in italiano si chiama Brian di Nazareth che è una specie di parodia della Bibbia della Bibbia, vabbè, del Vangelo è la storia di questo Brian che è il vicino sfigato di Gesù ciao ho detto tutto fa un sacco ridere credo che l'inizio di Life of Brian in cui i re magi vanno in cerca di Gesù e sbagliano casa e quindi vanno a casa di Brian sia una delle cose più divertenti che io abbia mai visto nella mia vita in generale non riuscivo a smettere di ridere durante questo film quindi assolutamente consigliato stavo per dire questa settimana ho visto solo film belli poi mi è caduto l'occhio su cosa ho visto venerdì no, ok non continuerò a dirvi per tutto il video consigliatissimo, consigliatissimo ho visto anche cose brutte non vi preoccupate sempre durante la maratona di Monty Python ho visto The Meaning of Life che in italiano si chiama Monty Python e il significato della vita che è stupendo io adoro i Monty Python veramente hanno un tipo di comicità che mi piace da bestie che non mi stancherà mai come Mel Brooks In The Meaning of Life non c'è una vera e propria storia molto in stile Monty Python è una serie di sketch che appunto sono collegati da questa ricerca del senso della vita e sono uno più divertente dell'altro l'ultimo film che ho visto durante questa maratona è stato i Monty Python e il Sacro Graal che già, vabbè io sono innamoratissima delle storie che riguardano le R2 e quindi vederlo sputtanato dai Monty Python è una cosa allucinante per farvi capire il livello i cavalieri della tavola rotonda vanno in giro facendo così con dietro dei servi che fanno con delle bucce di cocco bucce di cocco scorze di noci di cocco come si chiama il coso delle noci di cocco? con le noci di cocco per dire quanto cavolo possono essere dissacranti Monty Python che sono uno più bravo dell'altro ma il mio preferito è Eric Idol giusto per vostra pure informazione al mio solito stupendo cineforum settimanale ho visto 8 e mezzo di Fellini che è un capolavoro io non riesco a concepire è una cosa di una bellezza straordinaria è ipnotico la storia è bellissima i personaggi sono tutti interessanti senza pari se non avete intenzione di vedere è un film che dura due ore in bianco e nero con scene molto confuse ma confuse con uno scopo naturalmente non perché Fellini fosse un idiota che non sapeva tenere in ordine quattro attori la confusione è un tema portante della storia quindi ha senso che molte scene siano un po' cosa sta succedendo qui? aiuto chi è che sta parlando? esiste una versione non autorizzata Fellini non era assolutamente contento dell'esistenza di questa cosa esiste una versione musical che si chiama Nine la storia è la stessa i personaggi sono gli stessi è più leggero perché i pezzi sono in musica e c'è Sofia Loren Sofia Loren è sempre un più Nicole Kidman Marion Cotillard Kate Hudson passiamo veramente da livelli di Oscar a frrrrrrr cose vagamente più molto più in basso ovvero Pixels Adam Sandler mi faceva tanto ridere una volta ma mi ha stufata l'unico film con lui che riesco ancora a vedere perché mi piace sinceramente è l'altra sporca ultima meta che comunque è un remake quindi è mezzo barare Pixels mi è piaciuto un pelino di più rispetto ai soliti film di Adam Sandler perché a me piacciono un sacco i videogiochi quindi le scene con Pac-Man Q-Bert insomma mi hanno toccato un angolino speciale del cuore e quindi non ho completamente odiato questo film che comunque è una stupidaggine parla di un'invasione aliena che basa i propri attacchi alla terra sui videogiochi arcade tipo Donkey Kong Sand Pig Space Invaders diciamo che da una parte ci sono le cose positive l'uso dei videogiochi molto intelligente gli effetti speciali fantastici perché tanto sono film con dei budget fuori di testa c'è Peter Dinklage io sono mezza innamorata di Peter Dinklage e dall'altro c'è Adam Sandler che come sempre è uno sfigato ma riesce a conquistare la donna più bella della situazione perché in questo film onestamente c'è solo una femmina io molto intelligentemente guardo queste cose prima di andare a dormire ho visto Insidious 3 a me Insidious è piaciuto no da bestia di più mi è saputo originalissimo il fatto che non era la casa ad essere infestata ma era il bambino a portarsi dietro il de... questo magari è uno spoiler no non è uno spoiler è una trama mi è piaciuto un sacco il design del mostro vabbè il mostro slash demone insomma Insidious 1 mi è piaciuto un sacco mi ha fatto venire il terrore di Tipto Through the Tulips e quindi Insidious 1 consigliatissimo Insidious 2 essendo che Insidious 1 finisce piuttosto male e oh mio dio cosa può succedere subito dopo Insidious 2 ci mezzo sta ma già non mi era piaciuto granché Insidious 3 è il prequel è la storia di Elise che è diciamo la medium e della sua squadra e secondo me non ci sta no naturalmente mi ha fatto paura perché ci sono i jumps che wow ma per il resto proprio non mi ha fatto né caldo né freddo sì poi naturalmente quando cammino al buio cerco di stare rasente al muro perché mai offrire le spalle al nemico cosa ci ha insegnato Outlast se non questo sabato mi sono rivista per la non so più quantesima volta l'ultimo dominatore dell'aria tratto dal cartone animato avatar so perfettamente che ci sono un sacco di errori di adattamento cose che io aborro però a me piace non è quel tipo di film che difenderei a spada tratta durante una discussione però non è nemmeno un film che vorrei buttare nelle fiamme dell'inferno come farebbe qualcuno e mi è dispiaciuto un sacco che non abbiano dato i fondi a Night Shyamalan per fare i seguiti quindi in particolare se l'avete visto ci tengo a sapere la vostra opinione perché le poche persone con cui ne ho potuto parlare erano piuttosto d'accordo con me visto che sento non avervi ancora parlato abbastanza questa settimana vorrei raccontare quali libri ho letto adesso che sono libera dagli esami mi sono letta la trilogia del regno di Gahol mi è piaciuto tantissimo in particolare il primo la caduta forse perché ero in overdose da trattati tecnici ma avere come protagonista questo piccolo uccellino in difficoltà mi ha emozionato ogni volta che gli succedeva qualcosa la prima cosa che gli succede è che casca dal nido e viene rapito il cuore mi 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 ho letto un sacco di parole interessanti tipo borra le borre sono delle pallette di ossa pelo sassi che i barbagianni i gufi questo tipo di uccello rapace non riescono a digerire e quindi gli si forma una palletta nel ventriglio e quando sono pronti la buttano fuori è un libro molto educativo sotto questo aspetto poi ho letto il titolo di questo libro segreto che è il primo libro della pentalogia di pseudonymous bush di cui ho letto il secondo senza aver letto il primo ma comunque ho capito lo stesso di cosa parlava mi piace un sacco perché mi ricorda molto per come è scritto una serie di sfortunati eventi e due libri che ho letto e riletto da bambina che si chiamano il codice Vermeer e il codice Wright che sono dei gialli per bambini e quindi naturalmente nessuno è mai davvero così tanto in pericolo però comunque sono dei ragazzini che affrontano dei criminali risolvendo misteri mi piacciono queste cose consigliatemene se ne conoscete poi ho letto Pomi dottone manici di scopa ed è stata una tremenda delusione perché il film indovinate un po' ci sono cresciuta e mi è sempre piaciuto tantissimo infinito amore per Jessica Angela Lansbury e per David Tomlison che è il padre dei bambini di Mary Poppins io adoro Pomi dottone manici di scopa mi è sempre saputa un sacco intelligente l'integrazione della storia fantasy con effettivamente la storia della guerra mondiale e dovinate un po' questa cosa nel libro non c'è tutto quello che mi piace del film nel libro non c'è Emelius c'è ma non è lo stesso Emelius è un negromante del 600 che viene quasi messo a rogo oh mio dio e invece nel film è una simpatica canaglia è adorabile il pezzo della partita a calcio con gli animali sull'isola di Nabumbo nel libro non c'è nel libro ci sono altre avventure piuttosto noiose aggiungerei ma forse è solo che il film mi ha alzato troppo le aspettative infine ieri ho cominciato a leggere ancora non ho finito perché nel frattempo è successa una cosa molto importante L'inganno di Opal che è il quarto libro della saga di Artemis Fowl che non ho mai letto da bambina perché mi dava un sacco fastidio che la copertina fosse sbrillucicosa e non volevo sempre una femmina li sto leggendo adesso e mi piacciono assolutamente un sacco di Owen Colfer non ho un'idea di come si pronuncia il suo nome avevo letto La lista dei desideri che è quello già per un pubblico veramente più grande di quello a cui è diretto Artemis Fowl quel tizio è brillante ha un senso dell'umorismo pazzesco e Artemis Fowl è fantastico perché mescola il fantasy puro al thriller tecnologico e quindi è originalissimo mi piace un sacco e ve lo consiglio anche se avete 40 anni non credo che 40 anni guardi nei miei video però avete capito Cos'è questo evento che vi avevo già preannunciato? Signori e signori per San Valentino mi sono regalata Netflix I'm so fucking single credo veramente che Netflix sia una delle più grandi figate mai inventate e il metodo migliore per scavarsi la fossa sociale da soli considerate questo video il mio testamento spirituale se non vi parlerò mai più di film ma solo di serie tv è colpa di Netflix allora mie bellissime solite raccomandazioni non dimenticatevi di mettere mi piace al video ovunque sia possibile immaginabile di iscrivervi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto di consigliarmi un sacco di film e anche di serie tv non dimenticatevi le serie tv Netflix e soprattutto non dimenticatevi mai di coniugare bene i verbi trao